Vista l'attuale evoluzione della pandemia da Covid-19, che mostra una significativa riduzione dei contagi e un decremento dei casi con necessità di assistenza ospedaliera, viene meno la necessità di disporre presso il Presidio ospedaliero di Vallo della Lucania l'area dedicata alla gestione temporanea dei pazienti positivi, che era stata allestita nei mesi scorsi al secondo piano della struttura ospedaliera. Dal 7 marzo, infatti, i pazienti positivi potranno essere trasferiti direttamente nel Covid Center agropolese o in altre strutture Covid dedicate. Di conseguenza, da ieri 7 marzo è stata parzialmente modificata la disposizione dei posti letto. I posti letto dell'Unità Operativa di Medicina d'Urgenza vengono ripristinati a 8, i posti letto dell'Unità Operativa di Neurochirurgia vengono ripristinati a numero 10, i posti letto dell'Unità Operativa di Neurochirurgia vengono ripristinati a numero 10, sia i posti letto dell'Unità Operativa di Oculistica che quelli dell'Unità Operativa di Otorino la Lingogliatria vengono ripristinati a numero 6. Le due unità operative verranno riallocate nei rispettivi reparti. Inoltre, l'ufficio infermieristico provvederà alla riallocazione del personale infermieristico alle UUOO di appartenenza o secondo necessità.